Osserva la tua mente. Osservala in profondità. Ci sono dinamiche così profonde e complesse che non puoi immaginare. Osservala nei meandri più oscuri. Osserva i contenuti dei tuoi pensieri. Lasciali scorrere e vedrai il concatenamento delle loro cause. Osservati come osservatore. Abbandona ogni forma di giudizio etico o morale. C'è in te un universo interiore così vasto e profondo di luci e ombre che ti attende, che aspetta un osservatore attento. Non ti turbare di nulla. Non temere di conoscere ciò che realmente sei, lasciando ogni immagine di te stesso che hai ereditato sin dalla nascita. Non ti curare del giudizio degli altri o di ciò che pensano su di te. Tu continua ad osservare le profondità della tua mente così come ti appaiono. Poi osserva ancora senza stancarti luci e ombre. Osserva in te l'essenziale. Non ti annoierai. Osserva ciò che ritenevi negativo e positivo, ma non esprimere alcun giudizio. Osserva i tuoi vizi e le tue virtù. Osserva gli intricati nodi dei tuoi ragionamenti, il tuo modo di amare e le tue passioni più ancestrali. Osserva i tuoi labili e confusi ricordi che risalgono sin dalla primissima infanzia. Indaga serenamente sul tuo passato e penetra il presente. Prendi consapevolezza di ciò che realmente sei, ma rimani nell'imperturbabilità. Lascia scorrere il flusso di ogni contenuto mentale. Non trattenere nulla nello sforzo, ma riposa il tuo sguardo dove non oseresti mai. Quando scoprirai qualcosa di te stesso, hai scoperto parte dell'universo.